500 partite ufficiali per Alex Del Piero, al quale vengono consegnate una targa e un modellino di auto, naturalmente proprio una 500. Rappassano 34 secondi ed è subito Bari. Vediamo, scaglia, il pallone messo in mezzo, Santo Ruvo ed è gol. Primo minuto, Juventus 0, Bari 1. Abbiamo visto anche la ripetizione. La risposta della Juventus con Del Piero, la finta, il tiro e ribatte Gile. Poi è Treseguet che ci prova, bravo ancora una volta il portiere belga. Quindi l'ultimo dei tre tentativi con Nedved, sempre Gile, il protagonista e il migliore della Bari. Quindi dall'altra parte una situazione simile a quella del vantaggio. Scaglia, Santo Ruvo e il pallone a fil di palo. E adesso Del Piero, dribbling, Treseguet ed è gol. 34esimo, Juventus 1, Bari 1. L'abbraccio per Treseguet e poi ancora Juventus, successivamente nel finale del tempo. Nedved, dicevo in pallo, conclusione, gol al 44esimo. Juventus 2, Bari 1. Rivediamo il gol di Nedved, al suo rientro dopo 5 giornate di squalifica. Il caccio d'inizio dell'arbitro De Marco per la ripresa e questa impresa dimirante su tiro di Carros. Quindi Del Piero, sinistro e gol. 21esimo, Juventus 3, Bari 1. Dopo la rete di Del Piero, ancora il fantasista per l'assist. Nedved, la conclusione, il pallonetto, rete al 28esimo. Juventus 4, Bari 1. E c'è ancora spazio per il Bari. Dopo questo abbraccio al giocatore Nedved, la conclusione accorcia le distanze per l'esattezza Gervasoni al 44esimo. Juventus 4, Bari 2.